Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e qui si chiama Sneak Thief E siamo qui con l'episodio finale Finalmente mancano solo due livelli Esatto Che non vedo l'ora di fare perché secondo me saranno in assoluto i migliori E sono davvero felice di aver giocato questa miniserie Che poi vi è piaciuta tantissimo Che ci sta sparando Non l'ho capito Che ci sta sparando Dove ci hanno visto? Dove ci hanno visto? Ma cosa abbiamo fatto di male? Ma scusate Sono qui davanti, scusate, stiamo facendo l'intro Non lo facciamo più Non facciamo più l'intro Non gli piace che presentiamo il gioco e che siamo così felici di rapinare un posto Hanno ragione Hanno ragione Hanno ragione Lo capisco Comunque ragazzi lasciateci tanti like per festeggiare questo fine di serie E fateci soprattutto sapere se volete altri giochini divertenti da mettere in mezzo a Roblox E alle altre piccole serie che portiamo Dobbiamo rapinare 250.000 dollari Wow Quindi non è neanche troppissimo Allora, questa se non ricordo male è The Mansion, giusto? Quindi la villa è super gigante E guarda che villa Guarda, guarda Ma perché ci... Mamma mia, guarda Mamma mia, mi stai già facendo arrabbiare Non si è anche arrivati, cioè Quindi Allora Ok, questa è una bellissima stanza Scusami, abbiamo la luce Non so perché non la stavo accendendo Mi ero dimenticato di avercela Allora, da che parte possiamo entrare? Ho notato che fuori c'è una sorveglianza incredibile Sì, e spero Mentre invece The... Ok, ok, non l'abbiamo scelta Abbiamo... No, che fai? Che fai? Non mi piacciono ste cose, che fai? Nenco a me piace Sei caschita mazzi, cioè E poi è finito Da qui, da qui, da qui Eh, fai sotto Bello Chiudi, chiudi, chiudi Noi veniamo sparati e troviamo le soluzioni per andare avanti Allora, salvesi Occhio a una trappola Ok Ricordati che quelle sono trappole Guarda, hai visto comunque Che c'è un passaggio lì sotto Ma perché non hai notato quanti sogli ho preso? Sì, tu prendi Allora, c'è anche quello, l'iPod, l'MP3 No Vabbè, sì, ci avevano scoperto Comunque ok, abbiamo capito che lì sotto l'entrata migliore Parte da tutto, perché lì poi c'è un'entrata Esatto Ah, muoviti che ti scopre Muoviti che ti scopre Infatti adesso faccio così Ok Ok Aspetti che se ne vada Di capire lui che strada vuole fare Questo di essere ribeccati magari un'altra volta Perché secondo me fa il giro Fa il giro Non rimane fermo là Vedi, vedi che fa il giro E allora chi è che becca a noi, scusami? È lui È lui che fa il giro No, no, sono due a sto punto Prendi solo le barrette d'oro Mi sono auto chiuso Le barrette d'oro che sono quelle che valgono di più Andiamocene Ok Ok, va bene Proprio così velocissimo Vai, via, 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 via Apri Entra, chiudila però Chiudila così non c'è nulla di strano Vediamo se viene Sono troppo curioso Ma magari ci vede lo stesso Guarda che è quello che ci vedeva anche nel buio Ah no, ok, là non rischiamo Non rischiare, dai, non rischiare Ok Mamma mia Stiamo andando molto verso l'alto Quindi sembra che andiamo al piano di sopra della casa Sì, perché siamo partiti da quello di sotto Quindi giustamente dobbiamo salire su Salve Permesso Oh cavolo Una lì Vai, 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 vai Occhio alla trappola Ok Ok Allora Ci prendiamo questo Passiamo così Anche la chitarrina ce la portiamo a casa Che è bellina Tutto, tutto, tutto Poi Soldi Giustamente La tv gigante Questa stanza sembra abbastanza inutile Sì, assolutamente Cioè non capisco il senso di una trappola Non vorrei che ci sia Occhio, occhio, occhio Che arrivano le guardie anche da fuori E ti vedono dentro casa Spegniamo la luce Fai attenzione, sì Fai attenzione Ok Però Questi sono solo bicchieri No, non c'è nulla qua Non c'è nulla No, no, no Vedi, la lista, la lista Te l'ho detto che stavano passando Vabbè Secondo me Essendo una casa grande Dovremmo proprio trovare La stanza adatta Quella magari con la cassaforte Piena di soldi E quindi secondo me Ci sono anche delle stanze Che un po' ti Vedi Guarda già quella Quella con laser Eh vabbè ragazzi Ma che siete in questa casa Ma siete dei cecchini provetti Allora Giustamente Ci nascondiamo Qua nell'angolo Eh ma adesso ci vede Va dritto Sei un furbacchione Te ne devi andare subito A zigzaggo A zigzaggo Ok Ok Sali su Così vediamo cosa c'è Dai Esatto Ne approfittiamo in questi momenti Allora Luce accesa Sì 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 Ha ragione Zigzaggo Zigzaggo Dribbling Altre guardie L'unica cosa che ci sono Altre guardie Oh mamma mia È complicato Sì Ma complicato è poco Abbiamo trovato una di quelle armi Un po' gigantesche Chiamate AK-47 Molto belline Ma proprio il bagno devo trovare io Quando esploro Ma che sfortuna Mamma mia Che sfiga Allora vediamo qua che cosa c'è Buongiorno Le lavatrici Ok Ok Questo sicuramente è per la corrente Sì È buono questo Vedi che la dovevamo trovare l'interruttore Probabilmente abbiamo disattivato le cose laser Esatto Esatto Sono quasi sicura che sia successo Qui siamo saliti prima So che c'è una guardia Sembrerebbe che non c'è Quindi possiamo andare almeno un pochettino Terrazzino Bella questa casa Davvero bella Ci stragliamo un po' Complimenti Complimenti ai proprietari Anche se la stiamo rapinando Però i complimenti Ci fanno sempre Davvero una bella casa Ha un ottimo gusto Buongiorno Sì questo vaso d'oro Poi è molto bello Apri i cassetti Perché io non so se ci vorrà Guarda i soldi Non so se ci vorrà qualche codice In quella stanza con laser Capito Magari c'è qualche porta ad aprire Qualcosa del genere Meglio controllare Perché se no poi arriviamo magari lì Sì 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 Allora Questo che cos'è? Un altro smartphone Ma quanti ne avete? Cioè non ve ne fate nulla Ne basta uno in casa Non ne servono 15 Guarda qua Guarda qua Guarda qua Sì E non abbiamo il codice Aspetta però Magari è qui sotto No 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 Niente codice Niente codice Stavo pensando Dove nascondere un codice Se non vorrei che qualcuno Se lo aspettasse? Sotto dei piatti Sicuramente no? Esatto Mi sembra una cosa giusta Devo davvero togliere Comunque ci teniamo anche a precisare Che abbiamo guardato La stanza del laser Stanza tra virgolette Perché è semplicemente L'ingresso della casa Esatto Quindi non ha senso andarci Prendiamo il codice Sono rimasto malissimo Prendiamo i soldi della cassaforte E ce ne andiamo 5342 Ma non era anche la scorsa volta 5342 C'è sempre lo stesso Ci prendono in giro 5 3 4 2 No vabbè Guarda quanti soldi Allora aspetta Che ci abbassiamo un attimino La pistola non ci serve Grazie Concentrati A prendere tutti i soldi Siamo già inutilmente armati Di una capa Perché almeno così Se ci vede qualche guardia Li viene un po' di paura Capito? Assolutamente E magari scappa Invece che spararci A prima vista Come faceva sempre Ok 456.000 Direi che ci siamo andati Abbastanza larghi Quindi va benissimo Ci facciamo un bagno Ci rilassiamo qui E' bello Guarda comunque questa volta Almeno in questo bagno C'è un bel vaso d'oro Che almeno vale 20.000 Giustamente Oh mamma mia Ho sentito dei rumori Mi sono spaventato tantissimo Il discorso ora è Come ce ne torniamo a casa? No perché abbiamo Soltanto il 29% di vita Quindi credo che Con un solo colpo Questa volta ci ammazzano Ok Non per metterti ansia È giusto per Per farti stare tranquilla No? Vado? Eh sì Aiuto Vai corri 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 Spero anche la luce Non ci sparate Non ci sparate Non ci sparate Non ci sparate Finito anche questo livello Bravissimi 476.000 Mi sa che ci abbiamo messo 10 minuti Solo per fare questo Una piccola mancia Per il rapinatore No? Piccolina Abbiamo fatto quasi il doppio Credo che abbiamo preso Tutto quello che c'era In questa casa Quindi è andata benissimo Sono un po' delusa Solo dal fatto che I laser alla fine Erano assolutamente La porta d'ingresso Sì Mi aspettavo di trovare Una stanza piena di cose Invece no Comunque Diamond Days Quindi rapina di diamanti Dove saremo? Perché Allora c'è già una guardia C'è già una guardia Una fabbrica di diamanti Che dici? Ma non potete spararci Sempre ragazzi Però Noi siamo appena arrivati Siamo qua a farci un po' una gita E voi ci sparate Scala Andiamo 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 Mi piace che non troviamo queste cose Ma non c'è nessuna Spero di no È talmente buio Che anche con la torcia Non vedo quasi nulla Si vede nulla Questi vabbè I pannelli solari Giustamente Eh bravi bravi Sono ecologici Ci tengono all'ecologia Dell'ambiente Meno male Quello 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 non è che magari Ha qualche gratta Qualcosa in cui ci possiamo Sì ecco Ci possiamo filare ormai Che brava Questa felinichi Mamma mia Sono esperta di rapine Giustamente Ok quindi abbiamo trovato L'entrata anche per questo livello Ora Sarà la parte difficile Ok Stiamo facendo Un rumore incredibile Secondo me Io ho paura Che ci sia qualche Eccola qui Eccola qui Subito in faccia Ha ragione Ha ragione Ha ragione Ha ragione Questa è chiusa Ci servirà un codice Esploriamo Come sempre No certo Devi usare questi momenti Per esplorare Il più possibile Scatoloni Ovunque trappola 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 Davvero complicato Tiragli la gratta in testa Così sviene È una buona idea No Non lo è Ok andate in quella stanza Quindi andiamo dall'altra parte Esattamente Mi hai capito subito Secondo me ne arriva una Anche da quell'altra porta Questa Quindi noi andiamo di qui Ogni volta sbatto sulle porte Che apro Ci rimango malissimo Per questa cosa Ok quindi Da qua si arriva Su una bellissima porta vuota Dopodiché Stanza vuota Non porta vuota Sì hai ragione Allora io mi sto domandando Dove saranno le cose Che dobbiamo prendere Perché suppongo Che dobbiamo prendere i diamanti No siamo all'esterno Ma che sfiga Che sfortuna Che sfortuna Buota Salve Salve Sono entrato qui Non mi aveva beccato nessuno Però adesso lei avrà l'onore Di potermi beccare Quindi si prende una bella Promozione Promozione Sì vedi Comunque siamo gentili Regaliamo promozioni alle guardie Che fanno un duro lavoro Ok la guardia è appena passata E questa volta sapriamo Che porte possiamo aprire E quali no Quindi Vediamo un attimino Di scoprire le ultime cose qua Dopodiché si proveranno Altre strade Ogni volta sbaglio Come aprire Quindi abbiamo letto qua Vediamo qui Ah Ho ora Ok Ok la trappola Dov'è Oh mamma Salto Presa In pieno In pieno proprio Ma questa è la stanza di prima Oh no Credo che siano tutti uguali Con le scatole È un magazzino Se non si capisce nulla Ho notato soltanto una cosa Che comunque in mezzo alle scatole Trovi giusto Vabbè come prima Capito il codice sotto i piatti Anche qua non ti aspetteresti mai Di trovare delle barrette d'oro In mezzo alle scatole Eppure le trovi Quindi Sì ma c'è 180.000 dollari Almeno è stato professionale Appena le prendi Esulti E ti ammazza Giustamente Così almeno sei felice Mentre muori Certo 5 3 4 2 Verde Ha preso in giro È davvero Ha preso in giro È fantastico Ma è sempre lo stesso codice Però ti frega Perché tu rimani tutto il tempo A cercare un codice Ecco il diamante Cosa sono queste cose rosse Aiuto È gigante È enorme È enorme È davvero enorme No Ok Secondo me sono cose Che dobbiamo disattivare Trovando Eccolo qua Ma ogni volta Ho fatto venire un colpo Trovando magari qualcosa Capito qualche bottone Qualcosa del genere Da disattivare Voglio lui Quindi disattivi Una alla volta Non importa finire questa rapina A livello di soldi ragazzi Perché quanto ci chiedi Ci chiedi un milione A me non importa Racogliere un milione In altri modi A me importa Prendere quel diamante Voglio il diamante Assolutamente Chiaro e tondo Non ho dubbi Su questa cosa È grande quanto la mia testa Quel diamante Vero È enorme Tornati come orecchino Ti casca la testa Ma come cappello Al posto del tuo cappello Ti metti il diamante Avrei un po' di mal di testa Però Un po' molto Ne vale la pena Secondo me Sbrilluccicherei tutta la stanza Non andiamo fieri Di ciò che abbiamo fatto Non vi mostreremo Ciò che abbiamo fatto Ma per un diamante Certe cose Vanno fatte Ah dove siamo Guarda Vedi Te l'ho detto Che ci sono delle leve Probabilmente tu Disattivi piano piano Tutti i bottoni Cinque Eh credo proprio di sì Oh mamma Credo proprio di sì Uh Questo però era un po' segreto Hai visto? Hai visto che Cioè per nasconderti Un armadio farlocco Allora controlla bene C'era anche un'altra stanza Lo so però c'è la trappola Io ho paura di morire Sulle trappole Due Capisci? Due Eh vabbè guarda Solta questa Vai vai Tutta questa È ancora meglio Perché hanno messo Una trappola Magari stai arrivando Correndo Scappando dalle guardie Non te ne accorgi E caschi E ti infilzi Allora Qui? Nulla Non capisco Ok ci avete preso in giro Ma molto ci hanno preso in giro Oh mamma mia Non li troveremo mai Siamo solo due vero? Sì Io ci provo Vai 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 Ce la devi fare cioè Cioè ti rendi conto che non c'è altro? Devo solo fare un salto? Esatto Tre? Siamo a tre Ne mancano solo due Solo due Solo due Dai che ce la facciamo Ok Mamma mia Vai salta Ma secondo te se li spari La disattivi? Non lo so Magari la rompi in qualche modo Sprovo? No Provo? Vai Questo l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto sì L'abbiamo fatto sì No ma dicevo magari sparare dove c'è la leva Capito? Quattro 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 Fai vedere i nostri progressi Ora che li vedranno Che faticaccia Mi sento proprio fisicamente stanca con questa rapina Ti dico la verità Mi sento fisicamente stanca Io credo di sapere ciò che manca Eeeh Dov'era? C'era una porta questa qua Vedi? Ok E qui c'è l'ultimo Ok Ecco ma la si disattiva No forse non ce n'è anche Sembra che ci sia solo dell'oro Mi sa che abbiamo trovato l'ultimo posto Allora prendi il vaso Apriamo qua Come sempre vuoti Era solo per nascondersi quegli armadietti Eccolo eccolo L'hai vista? Trovata Possiamo prenderci il nostro diamante E andarcene Oh mamma mia che bello Così ci li rivendiamo tutti Ci li rivendiamo tutti Consolini volete un mp3 Li regaliamo ai consolini Stiamo rapinando i diamanti Oh mamma mia Cioè guarda Non ci credo Comunque la pulizia non funziona molto Qua c'è un allarme che suona Da tipo due ore E non è venuto nessuno Perché ci sono ancora gli altri fuori Che girano Sì Sono degnati di venire Esatto Ci siamo Vieni qua bel diamantino Vieni bel diamante Vieni Quanto vale? Un milione Solo quello Allora qui c'è la guardia Ci sono altre guardie E ho il 43% di vita Ok Quindi ho una paura Ok Salve Come facciamo scusami Ah? Come facciamo? Come facciamo uscire? Non lo so Libertà Ce l'abbiamo fatta Con il nostro bellissimo diamante Abbiamo finito tutto Mamma mia Che faticaccia Comunque siamo morti Quando Sì Come usciamo Ci hanno sparato E siamo morti Quindi abbiamo dovuto riprendere tutto Rifare tutto quanto Abbiamo praticamente un'ora di registrazione È stato complicatissimo Fare questi due livelli È stato davvero complicato Erano davvero medium e hard Guarda li confermo le difficoltà Comunque è davvero carino questo gioco Siamo felici di aver fatto questa miniserie Abbiamo ufficialmente finito tutti i livelli che ci sono Ci sarebbe il level editor beta Tipo per creare dei livelli Ma non credo che uscirebbe nulla di decente Quindi evitiamo totalmente Esatto Però comunque cercheremo altri giochi divertenti Che vi possono piacere Come ad esempio Ello Negbor Che stiamo iniziando a portare Secondo me Un po' di questi giochi mischiati a Roblox E a qualche altra cosa Possono stare molto bene nel canale E a me piace proprio portarli Non c'è niente da fare Esatto D'accordo? Bene che siete riusciti Dici un sito Sceglieci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti